Si avvia la chiusura alla regular season dell'NBA. Sentiamo come procede per il nostro italiano Simone Fontecchio la sua prima stagione nella Lega Americana, da Miami. Grandi prestazioni Simone quando si fanno giocare, oggi uno dei migliori in campo, come è andata? È andata bene, soprattutto il primo tempo, ho trovato un po' più di spazio, nel secondo tempo un po' meno. Però sono sempre felice quando riesco a aiutare la mia squadra, purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. È un peccato perché abbiamo combattuto fino alla fine, però ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto e torniamo a casa. E quanto ti motiva avere sempre di più la fiducia del coach e dei compagni che ti cercano in campo? No, quello è una cosa che devi sempre cercare di avere, non è facile, però anche quando non c'è, soprattutto quando non c'è quella fiducia, bisogna cercare di mantenerla. Chiaro, quando giochi di più inizi a vedere il parquet di più, i tuoi compagni ti cercano, è tutto più facile, però è una cosa che bisogna mantenere sempre, fiducia in se stessi a dispetto di quanti minuti uno gioca o meno. È l'ultima parte della regular season, dove si può arrivare? Qual è l'obiettivo ora, play-in, play-off? Vediamo, vediamo. Abbiamo un calendario molto complicato, adesso abbiamo tre partite in casa, però siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Oggi abbiamo dimostrato e anche con diverse assenze comunque riusciamo a combattere fino alla fine e quasi vincere la partita. Quindi pensiamo a una partita alla volta, poi a fine del campionato vediamo. Il coach ha parlato di quanto sia difficile la transizione dall'Europa all'NBA e non solo dal punto di vista del basket, ma proprio della vita personale. Quali sono le difficoltà principali? Penso sia un mondo completamente diverso. Io giro il mondo fortunatamente con la mia famiglia, con mia moglie e mia figlia, che averle accanto sicuramente fa molta differenza. Non è facile per me, non è facile per loro, però è normale avere un periodo di adattamento e piano piano capire i meccanismi. Anche il gioco è un po' diverso qui in America, quindi questo, però siamo assolutamente felici della nostra vita negli Stati Uniti. Ci piace un sacco Salt Lake, vediamo come andrà il futuro, però speriamo di starci a lungo. Dopo aver realizzato un sogno, quello dell'NBA, adesso qual è il tuo sogno più grande? No, semplicemente stabilizzarmi come giocatore, provare che sono un giocatore NBA, che posso stare in una rotazione in modo continuo. Questo è il mio obiettivo in questo momento, un passo alla volta, come ho detto tu, una transizione che richiede tempo e ce la sto mettendo tutta e vediamo come andrà.